Con il comandante della Polizia Municipale di Vallo della Lucania, Antonio Musto, vogliamo focalizzare l'attenzione quest'oggi sulle richieste, fortunatamente le tante richieste che stanno arrivando anche al Comune di Vallo per accogliere i profughi ucraini. Ci sono naturalmente delle indicazioni ben precise da seguire. Intanto le posso fare questa domanda, io ho detto tante tantissime, c'è una risposta alla richiesta di accoglienza a Vallo della Lucania? Diciamo che in questa prima fase stanno arrivando sul nostro territorio, suppongo anche negli altri comuni locali, parenti di persone che erano già presenti qui in zona. Molti sono andati in Ucraina a prelevare questi parenti, soprattutto minori, per portarli al riparo qui in Italia. Quindi in questa prima fase abbiamo questo tipo di arrivi. Attualmente nel giro di pochi giorni sono arrivate circa 30 persone dall'Ucraina, anche dei minori, dei ragazzi. Questi sono tutti praticamente accolti da famiglie che erano già presenti qui a Vallo. So che si sta attivando il comune tramite il vescovato per ottenere una struttura nel caso dovessero arrivare richieste da persone che non hanno dove andare, insomma, che non hanno alloggi. Al di là delle famiglie che ospiti, ci prepariamo proprio come comune di Vallo ad accoglierle queste persone. Intanto però, dicevo, ci sono delle indicazioni ben precise, non è che possiamo aprire semplicemente le nostre porte e farli e ospitarli. Ci sono delle indicazioni anche dal punto di vista sanitario. Allora, che cosa fare? Come organizzarsi? Come procedere? Certamente. Ci sono degli adempimenti sia di natura amministrativa che di natura sanitaria, a cui bisogna ottemperare. Intanto la persona che arriva dall'Ucraina in Italia ha l'obbligo di dichiarare la sua presenza, compilando una modulistica che è scritta anche in lingua ucraina, quindi facilmente accessibile, che va inoltrata agli uffici della questura di Salerno, all'ufficio emigrazione. Nel nostro caso va presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza, quindi al comune di Vallo, presso la polizia municipale. Quindi il cittadino che arriva dall'Ucraina compila questa documentazione, allegando la copia del passaporto e una fototessera. Chi invece ospita le persone, il soggetto locale quindi, è tenuto anche egli a fare una comunicazione di ospitalità, che già esisteva per la verità per i cittadini non comunitari e quindi è la stessa che veniva utilizzata già prima. Questa documentazione va in questura. Si può insorgere un problema qualora alcune persone siano sprovviste di documento di identità del passaporto, perché capirete che nella stappa si fugge, quindi potrebbero anche non avere questa disponibilità. In questo caso devono rivolgersi direttamente alla questura, ovvero al Consolato, all'Ambasciata Ucraina in Italia, che rilascerà un documento di identità temporaneo. Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, poi c'è l'aspetto, come giustamente dicevi tu, l'aspetto sanitario. Queste persone devono sottoporsi a tampone, come facciamo noi naturalmente, un'indagine preventiva sulla potenziale presenza del SARS-CoV-2, quindi sia un antigenico che un molecolare è indifferente, entro 48 ore dall'arrivo in Italia. Poi per la successiva settimana, 5 giorni, devono rimanere con gli strumenti di protezione individuale, che già sappiamo, le mascherine e quindi il distanziamento, se il tampone dovesse essere negativo. Questo è l'aspetto sanitario, quindi una comunicazione sia al Comune che all'ASL, alla quale comunque comunichiamo anche noi. Per cui chi ha bisogno, sia famiglie locali che vogliono ospitare o che sono in procinto di ospitare queste persone che vengono dall'Ucraina, possono o acquisire la modulistica qui da noi all'Ufficio di Polizia Municipale, o scaricarla direttamente dal sito del Comune, www.comune.valladelugania.sa.it e quindi scaricano la modulistica, la compilano e la vengono a portare qui a noi in Comune. Noi poi inoltreremo tutto all'Ufficio di Migrazione della Questura di Salerno. Ecco, c'è un'organizzazione ben precisa sulla pagina, sul sito ufficiale del Comune di Vallo, ecco anche ulteriori indicazioni. Posso farle questa domanda? Abbiamo ancora le mascherine, indossiamo le mascherine che ci siamo visti più volte durante i giorni più critici dell'emergenza Covid. Ci troviamo ad affronteggiare un'altra emergenza umanitaria? Sono due anni praticamente dall'inizio del 2020 che siamo in continua emergenza. Questa purtroppo temo sia peggiore del Covid che ancora non è superata perché anche se vogliamo parlare di questo i casi continuano a risalire. Anche qui a Vallo abbiamo una certa risalita dei casi. Stasera faremo un altro aggiornamento e vediamo a che punto siamo. Però insomma siamo in emergenza e cerchiamo anche, come dire, di trovare delle soluzioni al momento quando si presenta il problema. Per la verità in questo caso devo dire che il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono stati molto tempestivi, hanno diramato la procedura, le indicazioni per la procedura da seguire in maniera abbastanza rapida e quindi le hanno trasmesse poi ai terminali, ai comuni e a tutti gli enti preposti. Sappiamo già cosa fare, insomma. Abbiamo dato il nostro contributo, non ci siamo fatti trovare, come dire, impreparati per il Covid. Fronteggeremo, daremo il nostro contributo anche in questa emergenza? Sicuramente sì, sicuramente sì. Faremo tutto quello che c'è da fare, anche perché non voglio addentrarmi in argomenti che magari non mi comprendono personalmente, però il problema che si ha in Ucraina è vicino a noi. Qualcuno ieri osservava che ci sono delle aree di combattimento che distano soltanto mille chilometri dal nostro confine dell'est, dal Friuli, per cui è la stessa distanza che c'è da qui a Milano, insomma, più o meno. Per cui diciamo che l'avento bellico è molto più vicino di quanto si immagina, insomma.